L'assessore alla trasparenza Rabbaini ha deciso di parlare del caso della querela della segretaria comunale contro Marchionini. Madre e figlio arrestati dalla polizia con tre chili di hashish è successo nel fine settimana a Verbagna. Ampliamento dell'ospedale di Borgomanero, Comune e Regione Piemonte hanno sottoscritto un accordo di programma. Il Comune di Crevora d'Ossola ampia l'impianto di videosorveglianza, tre nuove telecamere saranno posizionate in paese. Fiaccolata Presidio per la Pace in Medio Oriente, mercoledì dalle 18 alle 19.30 intra appuntamento in piazzale Fly. Tre vittorie su tre per la cestistica Domodossola che si impone 76-56 nello scontro al vertice contro Paruzzaro. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano ha dato notizia della querela presentata dalla procura della segretaria comunale di Verbagna che si è detta vittima di ritorsioni e mobbing da parte della sindaca Marchionini. Abbiamo intervistato l'assessore comunale alla trasparenza e anticorruzione Patrick Rabaini che ci ha rivelato come già lo scorso giugno prima della querela la giunta avesse scritto a Marchionini chiedendo di prendere dei rimedi per una situazione di tensione tra i dipendenti e la segretaria. Rabaini ha anche risposto ai commenti arrivati da esponenti dell'opposizione sulla vicenda e ci ha spiegato perché sostiene la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale. Guardi, ho accettato di rilasciare queste interviste e di rispondere alle sue domande perché ho contezza diretta, personale e approfondita di una situazione diametralmente opposta a quella che è stata raccontata in questi giorni sui giornali. Io come fonte ho naturalmente solamente gli organi di stampa, non ho altro e da quello che ho letto quasi si adombra il sospetto che gli atti di giunta siano stati utilizzati per commettere dei reati come il mobbing eccetera eccetera. Facendo parte della giunta ritengo queste affermazioni, al di là del fatto che siano del tutto inveritiere perché durante la giunta c'è un segretario supplente che verifica legittimità degli atti ma soprattutto le trovo profondamente offensive e ingiuste nei miei confronti e non posso subire passivamente situazioni di questo tipo. Voi avete parlato di un atto politico nei confronti dell'amministrazione. Ma guardi, se consideriamo che si tratta di una querela, cioè un atto di parte che viene presentato teoricamente all'autorità giudiziaria per avere giustizia cioè la giustizia nostra, quella dei tribunali, dopo un vaglio della procura e un vaglio del giudice non capisco che senso possa avere consegnarla prima di questo vaglio ai giornalisti. Poi c'è un altro aspetto, il fatto che questo articolo sulla stampa nazionale sia stato ampiamente annunciata, la sua uscita. Poi non può sfuggire anche il fatto che qualche minoranza abbia cercato o abbia cavalcato l'onda di questa notizia sempre ribadisco di parte perché arriva da una querela chiedendo addirittura un'informazione completa e circostanziata a prescindere da ogni competenza dell'autorità giudiziaria. Io non prescindo mai dalle competenze dell'autorità giudiziaria perché sono imprescindibili che l'autorità giudiziaria faccia il suo corso faccia le sue indagini e dia le proprie risposte. C'è una lettera che gli assessori hanno indirizzato al sindaco il 28 giugno del 2023. Di che cosa si tratta? Da più dipartimenti c'erano state segnalate degli attriti, delle tensioni tra il segretario e il personale che erano arrivati addirittura all'intervento dei sindacati. Si parlava degli atteggiamenti non proprio consoni alla figura del segretario nei confronti dei dipendenti. E questo documento redatto in tempi non sospetti e le assicuro dopo una profonda riflessione perché è un atto particolarmente grave nei confronti del dirigente più alto del comune ma che però non ci ha lasciato alcuna possibilità perché a fronte di questi comportamenti che ci venivano segnalati anche gli assessori hanno comunicato al sindaco che non vi erano più le condizioni di fiducia nei confronti del segretario per poter proseguire serenamente nell'attività. Tra l'altro non è un segreto perché io ho trovato su internet degli articoli di giornale che risalgono al maggio del 2015 dove a Domenia si è rappresentata una situazione analoga sempre con il medesimo segretario. Però vede ci sono due modi di fare politica c'è la politica degli schiamazzi dell'attacco personale, del fango e poi c'è la politica del merito e del fare. La prima politica non ci appartiene. Madre e figlio in manette per spaccio di droga in auto avevano 3 kg di hashish Madre e figlio arrestati insieme a Verbagna dalla squadra mobile con 3 kg di hashish Domenica sera nel corso di un servizio antidroga nel centro di Intra i poliziotti hanno fermato l'auto di una donna di 54 anni che stava accompagnando il figlio 22 anni a Intra dopo aver trascorso con lui il weekend nella sua casa fuori provincia. Gli agenti in borghese hanno subito percepito che la madre, una professionista e il figlio stavano nascondendo qualcosa. La donna non si è mostrata collaborativa ha chiesto le ragioni del controllo precisando che non voleva che venisse effettuata alcuna ispezione al veicolo. Solo dopo che gli agenti hanno rammentato alla professionista i presupposti giuridici per l'esecuzione dell'ispezione la donna ha smesso di opporsi e in fondo allo zaino che avevano in auto hanno trovato 3 kg di hashish. Scoperta la droga il ragazzo che fino a quel momento era rimasto seduto in macchina è uscito dall'abitacolo e ha iniziato a colpire con violenti pugni il cruscotto dell'auto della polizia. È stata quindi perquisita anche la casa del giovane dove sulla scrivania c'erano un tirapugni un coltello e un pugnale a scatto mentre non aveva consegnato ulteriori 50 g di hashish che i poliziotti poco dopo avrebbero scoperto sempre nel suo armadio in un altro giubbotto. Mamma e figlio sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell'udienza che ha convalidato entrambi gli arresti. Per la donna non è stata applicata nessuna misura cautelare quindi è tornata in libertà mentre per il figlio il giudice ha disposto gli arresti domiciliari tuttora in atto. Intervento dei vigili del fuoco ieri alle 21.30 nella frazione Sant'Agata a Cannobbio per l'incendio di un'auto un'utilitaria che era parcheggiata davanti al sagrato della chiesa per cause in via d'accertamento ma probabilmente riconducibili a un guasto elettrico ha preso improvvisamente fuoco nella zona del motore. Grazie alla prontezza di alcuni residenti il fuoco è stato controllato con estintori e poi completamente spento dai vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza l'auto. Nessuna persona è rimasta ferita i danni sono stati limitati alla macchina coinvolta dalle fiamme. E sempre a Cannobbio c'è un nuovo comandante dei carabinieri il luogotenente Giuseppe Rossini domenica si è presentato ufficialmente. La stazione dei carabinieri di Cannobbio ha un nuovo comandante è il luogotenente Giuseppe Rossini già in servizio a Verbagna da molti anni che ha preso il posto del luogotenente Daniele Mignogna trasferito a Verbagna per un altro incarico. Il nuovo comandante Rossini che l'anno scorso è stato anche nominato Cavaliere della Repubblica si è presentato alla cittadinanza domenica al termine della messa nella collegiale di San Vittore. c'erano molti giovani e anziani. Il luogotenente ha colto quindi l'occasione per sensibilizzare sui rischi che corrono le fasce più vulnerabili della popolazione e quindi per i più giovani l'uso dei social network e l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti e per gli anziani le truffe. Si sono registrati molti casi di truffe sia tentate che consumate in tutto il VCO. Per questo motivo il comandante della stazione ha ribadito i concetti basilari per evitare di cadere vittime di questi sconsiderati criminali. Ha inoltre ricordato che nessuna istituzione chiama direttamente una persona a casa chiedendo soldi o altri beni dicendo che un incaricato passerà a casa per la riscossione. La chiesa era gremita per la concomitanza con la celebrazione delle prime comunioni e l'iniziativa è stata gradita dai presenti. Ora parliamo del progetto di ampliamento dell'ospedale di Borgomanero. Sarà realizzata una nuova ala nuovi reparti e nuova terapia intensiva un investimento di circa 26 milioni di euro. Questa mattina in municipio a Palazzo Tornielli il sindaco Bossi e il governatore Ciri hanno sottoscritto un accordo di programma che dà il via all'iter progettuale dell'opera con cui saranno realizzati otto nuovi piani per le decenze. Questa mattina sono a Borgomanero per consegnare nelle mani del sindaco Sergio Bossi il protocollo di intesa l'accordo di programma che stanzia queste risorse questi 26 milioni e mezzo di euro che servono per realizzare un nuovo padiglione ospedaliero qui a Borgomanero parliamo di un padiglione di otto piani 8 mila metri quadri parliamo di un nuovo reparto di terapia intensiva parliamo di nuove stanze nuovi luoghi per curare le persone. Un passo avanti per la sanità del territorio del Nuovalese non specifico di Borgomanero con questo progetto con questa proposta di nuova alla direttore Sì è un progetto molto importante abbiamo trovato questa soluzione di ampliare il padiglione delle decenze e questo ci aiuta a dare più spazio soprattutto ad alcuni reparti che sono in sofferenza di spazi cardiologia ortopedia e anche la nefrologia di alisi Una risposta importante perché sappiamo che la sanità ha tanti problemi qualche volta si fa la battuta ma è molto bella che la sanità è malata i tempi di realizzazione di quest'opera? Ma noi contiamo di realizzarlo il primo possibile attualmente daremo avvio alla progettazione che a seguito dello stanziamento che la regione ci ha fatto e lo Stato centrale e il governo di questi 26 milioni e mezzo di euro che è una cifra molto importante affidiamo la progettazione entro il mese e da lì parte tutto l'iter della progettazione adesso ragioniamo su uno studio di fattibilità che abbiamo fatto noi all'interno ma affideremo dei progettisti esterni la progettazione esecutiva questa richiederà di andare fin verso la metà del 2024 successivamente faremo la gara per il completamento dell'opera per cui entro il 2027 i primi mesi del 2028 dovremo avere il padiglione Aumegna l'amministrazione Berio ha illustrato i dati delle finanze comunali 16 progetti prioritari che la giunta intende promuovere un bilancio non facile sul fronte delle opere pubbliche valutati i rincari dovuti all'inflazione l'assessore alle finanze De Santi non ha dubbi aumenteranno i tributi comunali presentato ufficialmente di fatto il DUP per i prossimi tre anni che cosa contiene questo documento il documento il DUP è in astratto diciamo il documento più importante che un'amministrazione dovrebbe fare perché contempla sia i dati del bilancio triennale sia tutta una serie di informazioni sulla città ma in questo momento forse la cosa che interessa di più sono la partita degli investimenti che il comune di Aumegna può immaginare di fare in questi tre anni nei primi tre anni del suo ciclo amministrativo ciclo di investimenti voi avete espresso la volontà di mettere mano e di realizzare una serie di progetti che erano fermi e poi ci sono sei o sette desiderate però la priorità è mettere a regime a realizzare 16-17 progetti emblematici per cui ci sono dei cofinanziamenti da regione e stato e poi c'è una parte importante che è stata anche aumentata dalla parte del comune sì direi che questa è la cosa più immediata che si può immaginare io credo che al di là delle differenze anche politiche quello che deve essere garantito da un amministratore è anche una certa continuità amministrativa per cui noi abbiamo trovato tutta una serie di progetti che erano stati avviati anche dalle precedenti amministrazioni ma che con il passare del tempo non sono mai partiti perché in questi ultimi due anni si sono verificate almeno due situazioni particolari un aumento notevolissimo dell'inflazione 10% l'anno scorso circa il 6% quest'anno che hanno determinato anche con la bolla del 110% probabilmente un aumento considerevole dei costi per realizzare i progetti per cui quelli che erano finanziamenti pervenuti al Comune di Omenia dallo Stato o dalla Regione si sono rivelati insufficienti per poter portare avanti questi progetti noi abbiamo dovuto aggiungere in questi pochi mesi di amministrazione tutta una serie di soldi ma stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro per poter mettere nella condizione di poter realizzare degli interventi come per esempio l'asilo di Udicireggio dove i fondi del PNRR non sono sufficienti come la tribuna dello Stadio Liberazione questo ha determinato un impegno considerevole ma anche una criticità prossima futura per la gestione corrente del Comune di Omenia perché un investimento fatto con dei mutui e roba del genere si ripercuoterà sicuramente sulla spesa corrente per cui noi dobbiamo dirlo già francamente che il prossimo bilancio prevederà anche degli aumenti delle tariffe e delle tasse comunali Crevola d'Ossola investe per potenziare il sistema di videosorveglianza attivo in paese presto saranno posizionate tre nuove telecamere tre nuove telecamere controlleranno il territorio di Crevola d'Ossola la giunta Ferroni ha approvato il progetto per l'installazione delle nuove postazioni vanno ad aggiungersi a quelle già operative si tratta dunque di un potenziamento del sistema di controllo di chi entra ed esce dal territorio comunale il progetto fa parte del piano finanziato nei mesi passati dal ministero dell'interno per garantire più sicurezza nelle città anche per questo motivo il comune soranno ricevuto dal Viminale 35.000 euro al finanziamento ministriale il comune ha aggiunto altri 15.000 euro le nuove telecamere controlleranno i barchi di accesso lungo via Valle Vigezzo in frazione Oira e in via Sempione a Preglia nei pressi del semaforo anche queste telecamere permetteranno la centrale della polizia locale crevolese oltre al controllo di chi arriva in città anche la lettura delle targhe per una verifica in tempo reale della regolarità delle vetture in transito tutte le immagini inoltre potranno essere a disposizione delle forze dell'ordine in caso di necessità crediamo nell'utilità di questi progetti che già in passato si sono rivelati utili in caso di incidenti e furti per questo motivo abbiamo previsto un sistema implementabile che sarà ulteriormente potenziato nel corso del tempo il commento del sindaco Giorgio Ferroni e del suo assessore Andrea Cogliandro manifestazione per chiedere la pace in Medio Oriente domani mercoledì alle 18 a Verbagna e Intra la promuovono diverse associazioni a Verbagna mercoledì all'imbrunire le fiaccole accenderanno la speranza della pace il ritrovo è alle 18 davanti palazzo Flaima e Intra e la risposta locale lanciata sotto lo slogan Israele Palestina fermiamo la violenza iniziativa promossa a livello locale da Ampi con il sostegno di Arci CGL Alternativa A Banca Etica Manitese Emergency ACLI FIA e BBCO Libera e Hauser per dire no agli scontri in atto in Medio Oriente il titolo della manifestazione è Israele Palestina riprendiamoci la pace fino alle 19.30 le fiaccole della pace rischiareranno la serata verbanese che vuole essere un momento di riflessione per chiedere a tutte le parti in causa lo stop delle armi il documento stilato in occasione della fiaccolata parla chiaro condanniamo l'ignobile e brutale aggressione di Hamas contro la popolazione civile israeliana contro anziani bambini donne in spregio ad ogni elementare senso di umanità e di civiltà alla quale si è aggiunta la barbara pratica della presa degli ostaggi ma la nostra condanna è assoluta verso ogni forma di aggressione violenza e di rappresaglia contro la popolazione civile sia palestinese sia israeliana Hamas deve immediatamente rilasciare gli ostaggi e cessare le ostilità israele non deve reagire con la sua potenza militare contro la popolazione della striscia di Gaza o usare metodi di rappresaglia come togliere il cibo acqua luce e gas ad una popolazione anch'essa ostaggio della violenza provocata da Hamas a Villa Dossola invece sono le comunità religiose locali a lanciare un appello affinché si preghi assieme per la pace alle 20 e 30 del 27 ottobre l'ex cinema di Boldrini accoglierà quanti su proposta delle parrocchie cittadine e della comunità marocchina vorranno pregare assieme accogliendo così l'appello lanciato da Papa Francesco ad implorare Dio per la pace di tutta l'umanità con il digiuno e la preghiera e torneremo sul tema della pace a fine telegiornale con la riflessione di Don Renato Sacco del martedì siamo allo sport non si ferma più la cestistica a domodossola vittoriosa per 76-56 nello scontro al vertice contro Paruzzaro terza vittoria in altrettante partite disputate primo posto in classifica per la squadra guidata da coach Romeo Trionfo 3 su 3 la cestistica targata a Findoma un pediacop H24 non si ferma alla Paralaccagni i Granata hanno centrato un altro successo il terzo come detto di questo ottimo avvio di stagione piegando nettamente nello scontro al vertice i viking Paruzzaro che prima del match si presentavano anch'essi con 4 punti in classifica il punteggio finale testimonia in maniera inequivocabile il dominio da parte di Maestrone e compagni 75-56 il risultato finale con 5 giocatori in doppia cifra un Cerotti davvero scatenato sia in penetrazione ma soprattutto dall'arco del 6-75 e Domo capace di costruirsi un vantaggio in doppia cifra a partire dal primo quarto vogliono tenere ben saldi i piedi per terra i dirigenti Granata in particolare il presidente Nicola Guerra ma con questo avvio di stagione si può davvero sognare sono davvero molto soddisfatto il commento a caldo di coach Romeo Trionfo perché abbiamo giocato una partita praticamente perfetta contro un avversario di valore e sicuramente tra le protagoniste del torneo quello che mi sta piacendo di più da parte della mia squadra è la mentalità affrontiamo le partite in maniera corretta con la giusta attenzione con agonismo e voglia di vincere ma anche con una maturità in attacco sappiamo di avere punti nelle mani ma è in difesa che siamo cresciuti tanto in questo avvio di campionato è la prova che il lavoro in palestra alla fine paga nel fine settimana non siamo mai andati in difficoltà contro Paruzzaro anche quando loro hanno provato a metterci in difficoltà con una zona tipica dopo qualche azione ci siamo registrati e anche quell'arma non ha pagato non resta ora che insistere con questo atteggiamento consapevoli che il campionato è molto lungo ma iniziarlo così con tre vittorie è davvero un bel viatico per tutti quanti la conclusione di trionfo e sempre a proposito di basket scopriamo i contenuti della nuova puntata di Baschettando in onda il martedì alle 21 con replica il mercoledì alle 13 appuntamento con Baschettando come tutti i martedì sera insieme a noi in questa puntata dedicata alla vittoria della Paffoni a Caserta contro la anzi ad Aversa contro la Juve Caserta e poi in vista della partita di sabato a Verbagna contro Cassino ci sono Filippo Fazzioli ciao Pippo buonasera a tutti e Mattia Conto ciao Mattia ciao a tutti una coppia di play quanto ci voleva quella la vittoria di sabato era molto importante molto importante per l'umore per togliere un po' di ruggine e di voci su questa sconfitta con Legnano e sull'energia che non abbiamo messo quindi direi che ci ha alleggerito un po' MVP Filippo Fazzioli no esagerato no sicuramente è stata importante sono molto contento perché tornare ad una trasferta importante così con una vittoria fa morale credo anche che ce lo meritiamo perché comunque nel senso sapevamo che non potevamo essere quelli di Legnano abbiamo cercato di lavorare meglio in settimana i risultati si sono visti e quindi dobbiamo continuare adesso così di questo e molto altro parleremo ovviamente nella puntata di Baschettando con i due Plei Mecca della Pafone e come vi abbiamo anticipato anche le consuete riflessioni settimanali di Don Renato Sacco parlano della manifestazione per la pace che si terrà domani a Verbagna sì ben trovati a tutti a tutti questi sono giorni di tragedie di dolore di morte di bombardamenti di sangue di vittime e il rischio è di essere travolti anche noi anche il nostro cuore travolti dall'odio e invece siamo chiamati forse a fermarci un momento e a superare questo clima di odio che può portarci solo al peggio e allora io velocemente voglio darvi tre notizie dirvi tre cose positive la prima è successa lunedì 23 a Cesara quando il centro per l'impiego del nostro territorio tutto il personale si è spostato a Cesara per aiutare i richiedenti asilo per aiutarli a fare il curriculum vita per vedere come fare a inserirsi in questo nostro ambiente in questo nostro territorio un grazie davvero a tutte le persone del centro per l'impiego è un segno di vita di speranza di umanità oltre che di professionalità la seconda cosa mercoledì 25 alle 18 davanti a Palazzo Flaim a Verbania c'è l'appuntamento proprio per chiedere pace per Israele e Palestina riprendiamo per mano la pace dalle 18 alle 19.30 di mercoledì 25 e il Papa ci ha chiesto di vivere terza cosa la giornata di venerdì 27 ottobre come una giornata di digiuno e di preghiera per la pace troppi parlano di guerra allora il fermarci il digiuno e la preghiera per chi è credente ma anche per tutti può aiutarci forse a pulire un po' il cervello e il cuore e a continuare a costruire per quello che c'è possibile un futuro di pace non lasciarci travolgere dalla guerra il Papa ce l'ha detto Domenica all'Angelus fermatevi fermiamoci magari ne parliamo comunque meglio venerdì arrivederci e con le riflessioni di Don Renato termina il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con le nostre trasmissioni grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.